Ci troviamo al nuovo di Via Olimpia per la gara del campionato provinciale categoria giovanissimi, under 15, Virtus Castelfrentano, Valle Aventino. Ecco le entrate in campo, il direttore di gara è della sezione AIA di Lanciano. La Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallo-rossa, mentre la Valle Aventino con la divisa gialla, pantaloncini verdi, calzettoni verdi. Adesso c'è il cambio, un passo avanti. Ecco, c'è lo scampio dei saluti nelle panchine avversarie. Valle Aventino con la divisa gialla, pantaloncini verdi. Ok, tutto a posto, il guardalini sta a posto? Ah, all'altro lato, ok. Ecco, fra pochi secondi il direttore di gara darà inizio a questa gara. Due tempi da 35 minuti. Qual nuovo di Via Olimpia, ecco il fischio, l'inizio. Alle prossime riprese.